allora intanto buongiorno a tutti io non sono uno youtuber non sono un influencer quindi farò questo breve video più che altro per visto che lo fanno tutti per dire anch'io la mia sulla situazione dell'inter dell'inter attuale allora è evidente è normale che siamo tutti incazzati normale che siamo tutti incazzati perché comunque perdere in casa fa incazzare perdere in casa quando il milan ha pareggiato a salerno fa doppiamente incazzare perdere in casa dopo aver perso il derby fa girare abbondantemente i maroni sono il primo ad essersi incazzato sono il primo aver scritto di tutto sono il primo ad essermi lamentato però le offese gli incazzamenti ci stanno ci stanno ci durante la partita ci stanno anche dopo la partita ci stanno e come però a mente fredda a mente fredda secondo me penso sia opportuno dire due parole anche ragionando in maniera un po più un po più razionale perché allora ho letto delle cose voi probabilmente sapete che un account twitter con qualche migliaia di stronzi che mi che mi seguono amorevolmente e ho avuto modo di leggere un po di tutto tutto molto modo di leggere un po di tutto soprattutto cose che ci stanno perché quando si perde una partita soprattutto in casa contro il sassuolo quando avevi la possibilità di raggiungere di nuovo la vetta fa girare abbondantemente le balle però ho letto delle cose secondo me un po fuori dalle righe ho visto gente che ha messo in discussione il progetto tecnico gente che si è scagliata contro il mister contro i giocatori contro la società cioè io prima di posso capire la rabbia post sconfitta ma certe cose secondo me non possono essere non possono essere dette perché comunque stiamo parlando di una squadra che io invito tutti fondamentalmente a fare un salto all'indietro a fare un salto all'indietro torniamo a sette mesi fa sette mesi fa quando fondamentalmente ci siamo resi conto che avremmo perso il nostro miglior attaccante avremmo perso il nostro migliore esterno terzino come volete chiamarlo non sono esperto il nostro miglior centro campista purtroppo non per vicende legate al mercato e soprattutto il nostro condottiero cioè quella persona Antonio Conte che ci aveva permesso di tornare alla vittoria dopo non anni decenni quindi la situazione non era affatto rosea non era affatto rosea io mi ricordo perfettamente ciò che è stato scritto ed è stato detto in quel periodo si parlava di debacle si parlava di squadra indebolita ed è vero è verissimo è verissimo la squadra si è indebolita noi possiamo dire tutto quello che vogliamo ma la squadra si è indebolita a questo punto ritrovarci a 12 giornate dal termine 13 per qualcuno a due punti dalla vetta con una partita in meno un trofeo già in tasca una semifinale di coppa italia insomma mettere in dubbio ciò che è stato fatto finora anche no anche no perché allora ripeto ci sta l'incazzatura ci sta tutto ma mettere in dubbio ciò che è stato fatto finora non mi va non lo accetto non lo accetto per il semplice fatto che questa squadra qui avrebbe dovuto fare il campionato che sta facendo attualmente la juventus se voi andate se voi tornate indietro dei famosi dei famosi sette mesi vi renderete conto di una cosa che fondamentalmente la juve avrebbe dovuto fare il nostro campionato e l'inter avrebbe dovuto fare il campionato della juve questo è poco ma sicuro loro hanno un allenatore pagato 10 milioni di euro all'anno hanno il monte in gaggi più alto di tutta la serie a e adesso hanno anche l'attaccante o uno degli attaccanti migliori d'europa quindi chi veramente deve incazzarsi chi veramente deve lanciare merda nei confronti della propria società dei propri dirigenti dei propri giocatori del proprio allenatore non siamo noi siamo gli juventini perché sono gli juventini perché penso che nel calcio come nella vita ci siano momenti in cui si debba pretendere e momenti in cui si debba si debba apprezzare perché fondamentalmente noi dobbiamo fondamentalmente apprezzare quello che finora è stato fatto perché non è stato fatto una cosa da poco noi attualmente con una rosa che non mi venite a dire eccelsa non merita di finirmela eccelsa perché adesso abbiamo scoperto che c'è la noglo un fenomeno adesso abbiamo scoperto che gecko nonostante i suoi 36 anni è comunque un attaccante di tutto rispetto adesso abbiamo scoperto che in molte partite dunfries non ci ha fatto rimpiangere a chi mi adesso abbiamo scoperto che simone in zaghi non è un allenatore di merda pochi pochi avrebbero pensato che in zaghi sarebbe riuscito a fare ciò a fare ciò che ha fatto quindi io penso che alla fine dopo una sconfitta nel derby un pareggio con una nostra diretta concorrente un una sconfitta contro una delle migliori squadre d'europa e una sconfitta contro sassuolo che è l'unica secondo me delle tre che fa veramente girare i maroni io penso che non si non si debbano sparare sentenze troppo affrettate ma non lo dico a voi a cui pochi che mi stanno ascoltando lo dico soprattutto a me stesso perché anch'io come tutti gli interisti ho questa bruttissima tendenza all'autolesionismo alla disperazione al tirarsi la zappa sui piedi al primo problema però penso veramente come mi hanno scritto in tanti ieri su twitter criticandomi giustamente che questo non sia il momento di fare bilanci penso che questo sia il momento di sostenere la squadra il più possibile e di seguirla in un percorso che comunque finora ci ha dato un sacco di soddisfazioni e volendo può darsene ancora con questo augurio io vi saluto e non so se farò altri video di questo tipo nel frattempo beccatevi questo e forza inter sempre e comunque grazie a tutti grazie a tutti